Ai nastri di partenza la gara Barchi-Fano, la maratona internazionale dal Colle di Barchi nel comune di Terre Roveresche al mare di Fano. L'appuntamento è per domenica 8 maggio sul classico itinerario che attraversa i centri storici di Mondavio, Orciano, San Giorgio di Pesaro, Piaggio, Cerase e San Costanzo per poi tuffarsi verso la città della fortuna con arrivo previsto alla Rocca Malatestiana. La diciottesima edizione siamo maggiorenni quest'anno perché l'ultima nel 2019 l'abbiamo fatta quindi ci sarà la maratona che parte da Barchi alle 9 in contemporanea partirà da Mondolfo la mezza maratona. È un'emozione che vogliamo regalare a tutti quanti sia a partecipanti sia a tutti quelli che ci aiuteranno sulle strade quindi siamo tutti protagonisti in questa maratona perché sappiamo bene che è la maratona dei valori. Attesi per la gara circa 1500 atleti, la metà ha già inoltrato la propria iscrizione. Saranno presenti numerosi e prestigiosi testimonial tra questi l'ultra maratoneta Marco Olmo, 73enne di Alba, che ha disputato anche diverse edizioni della maratona di 240 km nel deserto del Sahara dove è salito tre volte sul podio. Poi l'atleta in carrozzina Luca Panichi, il maratoneta Ulderico Lambertucci, autore di imprese incredibili tra cui il cost to cost del 2012 dalla costa del Pacifico a quella dell'Atlantico degli Stati Uniti per 4.500 km a piedi in poco più di 60 giorni. Non mancheranno le giovani stelle fanesi della velocità, Alice è 16 anni e Francesco Pagliarini di 14 e Francesco Berardi, campione d'Europa Master di mezza maratona squadre, ha già assicurato la sua partecipazione anche Mister Mille Maratone. A secolo Antonio Grotto, 72 anni, ex imprenditore originario della provincia di Vicenza ma residente a Parigi, che il 30 marzo scorso ha tagliato il traguardo delle mille maratone e ultramaratone corse in 140 nazioni di 5 continenti diversi. Arrivo da tutto un altro sport, da deserti e montagne, comunque ogni tanto una mezza maratona la faccio questa qui mi sembra bella, il posto bello, l'organizzazione è super collaudata, quindi senza altro una bella gara. Qual è l'esperienza più bella che ha visto? Beh, più bella, bisogna sempre vedere, che dà più notorietà vincere due volte l'UTMB, che è la gara che tutti vorrebbero fare e vincere. Posti belli ne ho visti parecchi nei deserti, vincere a Petra o a Desert Cup dopo 168 km, passare davanti al Tempio dove hanno girato Indiana Jones come vincitore non è male. Quindi poi ho corso in Libia, ho fatto 22 maratone de sub, insomma ho girato, ho corso in Bolivia sul Salar de Uyuri, ho corso in vari posti in Africa, do Zambico, Mali, nel sud dell'Algeria, ho corso in Oman, in Giordania naturalmente, ho corso anche negli Stati Uniti, la Dead Valley che sono andato malissimo. E ora lo attende questo nuovo appuntamento con la mezza maratona di circa 42 km che prenderà il via dalla piazza del municipio di Mondolfo. Dopo un suggestivo giro intorno a uno dei borghi più belli d'Italia, si dirigerà verso San Costanzo, da dove condividerà il percorso della gara più lunga. Un evento molto importante per tutta la nostra comunità, è un onore ospitare la mezza maratona con le maratone, un evento che promuove lo sport, uno stile di vita sano ma è anche la maratona dei valori. Oggi più che mai è importante trasmettere questi valori nelle nostre comunità e in più è un modo anche per promuovere i nostri bellissimi territori. Ci saranno tanti atleti che vengono da tutta Italia ma anche dall'estero e sarà un piacere farli conoscere le nostre bellissime colline, i nostri bellissimi territori, la nostra provincia e la regione maratona.